UbiBank ha ufficializzato la delibera di un'offerta vincolante a un euro al Fondo Nazionale di Risoluzione valida fino al 18 gennaio per tre delle quattro Goodbank, nuova banca Etruria, nuova banca delle Marche e nuova Carichietti. L'offerta prevede l'accessione prosoluto da parte dei tre istituti di 2,2 miliardi di sofferenze lordi e 0,5 di sofferenze probabili prima del closing atteso per il primo semestre. Ubi farà un aumento di capitale da 400 milioni sul quale ha già siglato un accordo di garanzia con Credit Suisse e Morgan Steli. La parola passerà al direttorio della Banca d'Italia che deciderà martedì prossimo la vendita di banche Etruria, banche a Marchi, Carichietti e Ubi. La Banca d'Italia nella qualità di autorità di risoluzione nazionale è l'azionista degli enti ponti nati dalla risoluzione del 22 novembre 2015. Grazie. Grazie.